Benvenuti ragazzi, io sono Matt, che se vuoi essere trattato a TVX, e oggi siamo fatti un prossimo video in real life. Come avete visto dal Twitter, visto che è partita, questo video esce il giorno prima del primo giorno di scuola. Incredible! Vabbè, a finito parliamo di scuola. Allora, ti ho detto che sei per questo video, per annunciare alcune cose. Come pensate, io durante l'estate sono stato poco... Ho pubblicato pochi video, solo nell'ultimo periodo mi sto leggermente rifiandendo, ma se mi prendi posso fare anche un video nei due giorni, fatti bene, l'importante è che vivi in un inferno. E la domanda è, riuscirò a mettere questo ritmo anche con l'inizio a scuola? Sì! Ci riuscivai? Beh, col tempo ci riesco di spuro, ma con l'avoglia non so. Se riesco a farmi le mie idee che proprio mi mettono voglio di farlo, tipo, ragazzi, dopo, tipo a metà settembre, forse, dico forse, oltre a fine settembre se vuoi fare bene, esce il video di una serie, che secondo me sarà la migliore del mio canale, negli da pixel ma negli da UCN, di cui è dentro Minecraft, infatti, vado, sto creando un mod fuck assurdo, devo solo vedere, appunto, le modi da mettere e creare una logica, che sarà un roll play, è diverso dal video, creo il mio nuovo, per esempio, Minecraft pro, per quattro è tipo, a stile, failcraft, Minecraft pro, l'intime, altera, una cosa da ritenere, e beh, sto mantenendo la maschera perché è scomoda, mi vado a un Instagram, un video assurdo nel naso, e no, vabbè. Quindi, vi chiedo di rimanere sempre iniziati sul canale, e nel prossimo momento, non vi ferderete nessun altro video, almeno spero. Allora, poi un'altra cosa, sto cercando di migliorare la qualità del mio video, video, ossia real life, e quindi penso che ne farò sgueno, penso che farò più video di Minecraft, altri tipo di animazione, a meno di altri giochi, e di real life, e quindi, come dire, like, in interno vlog, e sto anche inviolando le miniature, ci provo, andrà in mente di che. Poi, vi voglio augurare, anche se questo video lo sto registrando, tipo, nove giorni prima, e lo sto editando nove giorni prima del primo giorno di scuola, dopo che non ho tempo di parlare nel prossimo giorno, quindi, vi auguro, vennero bene l'altra scuola, anche per me, un altro buono l'altra scuola, ma anche per voi, anche se lo sto registrando, che non ti ho detto nove giorni prima, quindi, non siete bene, è un po' strano dirlo così, perché, giustamente domani, mi chiedo di andare a scuola. Che bello. Vabbè, spero di riuscire a mantenere questo video, per fortuna, se tu hai fatto, quindi avrò un sabato che posso editare, perché ho anche a sala di YouTube, però, non so, vedo cosa riesco a stornarvi questi imposti dati. Inoltre, voglio mettervi un buon proposito per questo inverno. Voglio cercare di fare più collab, con un sacco di YouTuber, ovviamente da una grandezza, tipo, massimo due iscritti, o, ma no, o voglio chiedere ai Mums, tu, di te, o Norse, Lopi, o, Davide Johan, Smythe, o, Lenny Lenington, vabbè, voglio chiedere con YouTuber, che siano molti più specchi di me, però, voglio chiedere, tanto, per il posto, devo solo provare, o, devo solo sbagliare qualche idea, vabbè, batteria scarica, a me vi tento un cuore questo video più presto, più efficace. Allora, anche se questo video è corto, vi voglio augurare un buon video di scuola, una buona permanenza su canale, e soprattutto, un buon duro di mezzo dei miei video. Non so cosa vuoi dire, vabbè, intendo che si vuole che vi facciano i miei video, perché ci metto tanto tempo per farli, un giorno, più o meno, però quelli belli con la loro, o ero, che ci mettono tipo, non so, 5-6, tipo 6 mesi, però, vabbè, per questo video è tutto, vi ricordi di seguire un solo account di Instagram, fuo effettivo afro, che vi lascio più in descrizione, di un video di serverdistor, officialmente aperto, sempre in descrizione, e di, e vi dà appunto un momento, con un prossimo video. Ciao!